Dopo mesi di ostruzionismo della minoranza in consiglio regionale si apre uno spiraglio per arrivare finalmente all'approvazione della riforma sanitaria. I lavori dell'aula sono stati sospesi per consentire a maggioranza e opposizione di preparare un testo condiviso sul numero delle ULS che potrebbe essere votato già alla prossima seduta. La trattativa parte da una nuova proposta del capogruppo leghista Nicola Finco che mantiene le sette ULS provinciali più quelle di Bassano e del Veneto orientale ma introduce alcune modifiche per venire incontro alle richieste dei consiglieri. La bozza di proposta che abbiamo presentato riguarda la realizzazione delle nuove ULS come individuato del Presidente Zai e poi diamo la possibilità alle due aziende ospedaliere di Padova e di Verona di integrarsi con il territorio quindi attraverso una sperimentazione che potrà durare circa due anni dove andremo a dare alle due aziende ospedaliere una parte del territorio all'interno di quei confini provinciali e poi andremo ad individuare tutta una serie di criteri che serviranno nel caso in cui dei territori vogliono richiedere delle ULS. Il dialogo intorno a questa proposta è costruttivo e il clima abbastanza positivo assicura Finco. Buona parte dell'opposizione si è dimostrata in maniera intelligente e favorevole a questa mediazione bisogna capire se le posizioni sono compatte oppure se c'è ancora qualcuno che tenta di giocare a ribasso quindi allo sfascio. Ottimismo anche tra le fila delle opposizioni che pur con toni diversi si dicono fiduciose sul raggiungimento di un accordo. Per noi un passo avanti un'apertura spero che venga colta da questa maggioranza. Siamo arrivati a una trattativa stiamo mediando per tutelare la sanità dei veneti quello che noi chiediamo da mesi e mesi ovvero di avere criteri oggettivi di avere tutti i veneti trattati alla stessa maniera. Tenendo conto delle specificità quindi tenendo conto anche del tema dell'ospedale della Pedemontana, del tema del territorio della montagna, il tema del turismo quindi della dell'affluenza turistica per cui su questo noi apriamo un dibattito e un ragionamento.